La nuova stagione per il Taranto è già iniziata, lo si apprende da un comunicato stampa diramato dal club Ionico nel pomeriggio di lunedì. Il restyling ripartirà dal settore della comunicazione e dell'immagine mediatica con un nuovo sito internet che sarà online dal prossimo mese di giugno e nel quale sarà previsto un corner dedicato al merchandising nel quale acquistare l'abbigliamento non solo sportivo del club che da quest'anno ha scelto di gestire direttamente la vendita del proprio materiale ufficiale. Il progetto prevede anche la realizzazione e registrazione di un nuovo marchio di proprietà che sostituirà quello attuale e proprio su quest'ultimo punto che nella serata di lunedì l'associazione Taras ha diramato una nota stampa nella quale invita il presidente del Taranto Massimo Giove a recedere dall'intento di cambiare il logo della società in quanto lo stesso, si legge testualmente nella nota, è stato scelto dai tifosi tarantini attraverso una consultazione pubblica lanciata nel 2018 registrato dalla Taras l'anno successivo. Lo stemma è stato poi concesso gratuitamente al Taranto che ne ha tratto e ne trae giovamento economico in maniera esclusiva. La Taras chiede di essere interpellata in virtù del diritto particolare presente nello statuto del Taranto e interpreta tale gesto da parte del presidente Giove come una sorta di sfida lanciata alla tifoseria rosso-blu proprio agli albori della programmazione della nuova stagione. Una diatriba che infiamma la coda di un campionato da dimenticare in attesa di nuovi sviluppi e di un dialogo costruttivo tra le parti per il bene del Taranto.